Bene, già che ci siamo annunciati con tanto clamore al mondo, dovremo trovare un'altra strada per attraversare le colline. Certo, sarebbe molto più facile se tu volassi. Qualcuno ha parlato di volare? Te la senti di provare di nuovo, Cavaliere dei Draghi? Non sono stato bravo l'ultima volta. Non siamo stati bravi. Puoi dire grazie a Brom per la sella. Ah, questo non è poi così male. Non è male, no? Sì! Piegati! Non fa tanto! Senti come si muove, Aramon! Come mira! E quando acceda? Vediamo che sai fare, su! Ancora più veloce! E' stato cercato! Tieni, tieni, ragazzi! L'hai voluto tu! Vai così! Quando saremo tutt'una, potrei combattere da dove vuoi. Anche dalla coda! Voglio provare! Non ancora, è meglio! È facile, ce la posso fare. Non ancora, è meglio. Non ancora, è meglio. Ma posso provare questo? Sculplacca, svegli! Fantastico! Tu vedi sempre così! Questo è niente, guarda adesso! Sì! Grazie a tutti